Il governo ha deciso di regolarizzare i migranti senza permesso di soggiorno. Questa cosa si chiama sanatoria. Se lavori nell'agricoltura oppure a casa di qualcuno come assistente, puoi fare la domanda dal 1 giugno al 15 luglio. Ma attenzione! La sanatoria può essere una buona opportunità per mettersi in regola e migliorare la propria vita, ma nel passato è stata anche l'occasione per molte truffe. Molte persone hanno perso soldi e hanno avuto dei grossi problemi illegali. State attenti! Non fidatevi di persone sconosciute che si offrono per trovarvi contratti a pagamento. Molto spesso sono truffatori. Non firmate nessun contratto senza conoscere il vostro datore di lavoro di persona e senza prendere una copia di un suo documento d'identità. Prima di decidere, informatevi bene e rivolgetevi agli sportelli specializzati o uffici specializzati.